Buongiorno a tutti da questa 39esima edizione del GISE, ho il piacere di poter intervistare il dottor Alberto Menozzi che è il primo autore di uno dei libri che è stato pubblicato insieme al GISE relativo al trattamento dell'infarto miocardico acuto. Alberto ti vorrei chiedere qual è oggi nel 2018 l'attuale standard per il trattamento dello STEMI? Grazie Chiara, lo STEMI, il trattamento dell'infarto miocardico acuto ST sopra slivellato rimane tutt'oggi una delle sfide e uno dei pazienti più difficili per il cardiologo interventista. Ovviamente il trattamento di questa patologia parte da una rete molto efficiente che consenta la centralizzazione dei pazienti nel più breve tempo possibile nelle sale demodinamiche. La pietra miliare del trattamento rimane ovviamente l'angioplastica primaria, cioè la riapertura meccanica della coronaria occlusa, ma è fondamentale per garantire il miglioramento dell'outcome del paziente, quindi il miglioramento della sua prognosi, dicevo rimane fondamentale anche una serie di terapie accessorie, quindi tutta quella che è la terapia farmacologica sia nella fase acuta che nella fase successiva, che nella fase cronica, rimane fondamentale l'utilizzo di presidi, ad esempio sia di imaging eventualmente o di metodiche funzionali per guidare il completamento della rivascularizzazione, così come ovviamente rimangono di grande importanza nei quelli che sono per fortuna rari pazienti complicati anche l'utilizzo di metodiche di supporto del circolo che possono ovviamente aiutare i pazienti più critici. Quindi grazie, allora un trattamento che deve essere a 360 gradi e quindi l'importanza e l'idea di creare questo libro. Com'è avvenuta l'idea di risaltare questo importante ruolo dello STEMI e della terapia corollare in quest'anno? E ancora ti chiederei quali sono i punti salienti di questo libro e i temi che i lettori possono ritrovare all'interno di esso? Se appunto, come dicevo prima, è ovviamente incontrovertibile l'utilità del riaprire la coronaria attraverso l'angioplastica primaria nel più breve tempo possibile, rimangono degli spazi grigi e delle aree controverse in molti settori, da quella che è la tempistica del pretrattamento, ad esempio con i farmaci orali, a quello che è l'utilizzo in quali pazienti dei farmaci parenterali come i GPI e come il nuovo Cangrelor. Un altro elemento in cui c'è ancora molto ambito di discussione è la tempistica e dei completamenti sulle altre coronarie, ad esempio, e di quali strumenti avvalersi per decidere quale coronare trattare o no. Fino ovviamente a quello che è tutto l'ambito di scelta dell'accesso vascolare, dimenticavo, ma infine quello che è tutto l'ambito ovviamente del post-acuto. Quindi quali sono i numerosi presidi oggi farmacologici a disposizione in termini di terapia antiaggregante lungo termine, in termini di terapia antischemica, in termini di terapia ipolipemizzante che noi possiamo utilizzare per migliorare la pronuncia del paziente a distanza.